Ciao! Allora, nuovo vlog, nuovi aggiornamenti. Questo sarà un vlog, non so se sarà lungo, comunque da questo vlog inizieranno i vlog della casa. Per cui metterò, se riesco, due video, che sono due vlog a settimana, che è il continuo del vlog. Oppure, se non ce la faccio per motivi lavorativi, giustamente ne metterò una settimana che durerà, diciamo, un po' più lungo. Adesso vediamo un po'. Comunque, niente, aggiornamenti. Sto già facendo gli scatoloni, come vedete. Sto facendo gli scatoloni. Sono immersa di scatoloni. Solo scatoloni. E le ho fatte 15 di scatoloni. Me ne mancano 150, perché manca praticamente tutta la parete della cameretta. Manca lo sgabuzzino, che c'è anche altri scatoloni. Ne mancano tanti. Per cui, adesso vi metterò qualche clip che ho fatto in questi giorni. E vi dico solo che a fine novembre traslocchiamo. Per cui, gli scatoloni sono metà pronti. Comunque, non mi porto ovviamente tutto, perché è difficile fare avanti e indietro. Porterò solo metà scatoloni e l'altra metà poi li verrò a prendere, quando riuscirò. Perché è difficile. Dentro in macchina ci stanno massimo, massimo 5 scatoloni, non di più. Certi sono anche grandi, come vedete, certi scatoloni sono anche grandi, per cui non ci stanno in macchina. Ci vuole almeno un furgone. Dato che, per il momento, noi non possiamo, diciamo, prendere o affittare un furgone. Scusate, era il corriere. E direi che lo scatolone che mi ha portato era abbastanza pesante. Comunque, niente, vi lascio le clip che ho fatto della casa. Qua stanno cadendo i scatoloni della casa. Mi metto seduto perché non ce la faccio più. Ho finito praticamente di fare i... Allora, scusate. Ok. Perché mi fa male il braccio. Comunque, qualche clip dei lavoretti che abbiamo fatto in casa ve li lascio in questo vlog. Ormai abbiamo finito di fare i lavori. Manca solo il bagno da ristrutturare, però questa volta abbiamo deciso di farlo l'anno prossimo. Per cui l'anno prossimo faremo il bagno, che mancherà solo quello. Tutte le altre cose abbiamo già fatto tutto. Sta finendo, ovviamente, di fare le ultime due cose che mancano. Stiamo aspettando la nuova cucina che arriva prima della fine di novembre e credo che entro il 15 dicembre siamo nella casa nuova. Per cui ci trasferiamo. Sì, ho il fiatone perché ho portato il sacco grande, pesante, da sola. Perché qua da me c'è un cortile ed è lontano quando arriva il corriere. Per cui non è come nella casa nuova che scendo giù dalle scale e ce l'ho di fianco. C'è il vicino. Comunque, niente. A parte i lavori, vi metto sia le clip dei lavori della casa e sia qualche clip che avevo fatto prima che stavo facendo gli scatoloni. Per cui, piano piano, vi metto anche quelle clip, anche quelli precedenti che avevo fatto. E piano piano vi farò vedere con me anche il trasloco e gli scatoloni che sto facendo, piano piano. Per cui in questo video vedete praticamente quasi tutto solo per la casa. Non so quanto durerà sto video, sto vlog. Per cui da adesso in poi, da quando vedete questo vlog, ci saranno per il momento solo vlog. Perché poi saremo appunto, poi inizierò a registrare i nuovi video nella nuova casa. Per cui sarà un colpo, diciamo, non difficile, ma non me l'aspettavo che in così poco tempo, pochi giorni, siamo già dentro. E tantomeno sto facendo il possibile per fare i video, sto facendo il possibile per fare i vlog. Giustamente lavorando tanto dal... Sì. Allora, sul fatto del lavoro ve lo spiegherò in un altro video perché è cambiato anche un po' il lavoro. Per cui credo che forse avrò più tempo per registrare i video a confronto di questi mesi, questi due mesi che sono stati duri per me. Sia a registrare che a montare, tutto. Perché come sapete io ci tengo al mio canale, ci tengo alle amicizie che facciamo su YouTube. Perché non solo, diciamo, quelli che mi seguono sono solo fan, ma sono anche diventati amici. Cioè vuol dire che ci sentiamo anche privatamente su Instagram. Praticamente tutti i giorni. Sento molte persone tutti i giorni. Parlo con loro. Per cui non è solo come fan, ma è anche come amicizia. Per cui ci tengo molto al mio canale. Per quello che io non voglio, diciamo, stare senza video sul mio canale. Per cui sto cercando il possibile di registrare almeno un video a settimana. Se non riesco due o tre, ma almeno uno lo voglio mettere sul canale. Perché così almeno il canale non resta senza. Ci sarà anche una piccola pausetta, credo di due settimane. Due settimane, credo a fine novembre. Perché non avendo internet in casa nuova e me la devono ancora mettere, devo ancora vedere le promozioni. Sarà difficile che ci saranno i video. Per cui per due settimane sarà uno stop su YouTube. Poi quando tornerà l'internet nuovo nella casa nuova, continuerò a fare... Cioè, continuerò. Farò i video nuovi nella casa nuova. Io ce la sto mettendo tutta a fare e a registrare e a montare i video. Perché, come sapete, anche se io lavoro dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica, perché io non ho un giorno... Cioè, ho un giorno di riposo, ma... Se riesco ad averlo. Perché se quando c'è tanto lavoro è difficile che avrò un giorno di riposo. Io lavorando a sabato o a domenica, anche quello tutto il giorno, non riesco ovviamente a registrare i video. Adesso sto cercando piano piano di avere almeno quell'oretta di registrare e montare i video. Che poi alla fine ci vuole almeno un giorno solo per fare un video. Per cui calcolate anche la difficoltà per me tra il lavoro e fare i video. Perché calcolate che quando io vengo a casa dal lavoro, io mi metto a montare alla sera tardi i video, quelli già registrati. Se io invece sono a casa di riposo un giorno e ho lavorato per tutta la settimana o per due settimane di seguito e mi danno un giorno di riposo, calcolate che quel giorno di riposo io non mi riposo andando in giro per negozi, stare a letto a riposare, eccetera. No, io non lo... Cioè, il mio giorno di riposo è un giorno in cui io lavoro per YouTube. Perché giustamente questa è una passione, ma è anche un lavoro. Perché giustamente YouTube paga i video che fai. Per cui calcolate che il mio giorno di riposo mi metto a lavorare per YouTube, tantomeno a fare i video, registrare. Per cui non è più un giorno di riposo per me, ma è un giorno di lavorare anche quel giorno lì e fare 24 ore su 24 tutti i giorni tra YouTube e lavoro. Per cui dovete anche capire perché ci tengo tanto al mio canale e quanti sacrifici sto facendo anche solo per non far sì che il canale resta senza i video. In poche parole. Per cui io ce la sto mettendo tutta. Cerco di fare video più belli. Cerco di farli anche di meno. Ci sto provando. Ma quando parlo io, ormai chi mi segue da tanti anni sa come sono. Sa che parlo troppo. Non la smetto mai di parlare. Quando devo parlare, chi si fermi? Cioè, nessuno mi può fermare. Almeno che ho una persona davanti che parla con me. Per cui ormai quelli che mi seguono sono già abituati. Comunque, niente. Io ringrazio alle persone che mi seguono. Che sono da tanti anni che mi seguono. Ringrazio i nuovi iscritti. E ringrazio alle persone che mi scrivono sempre ogni commento sotto nei video. Per cui grazie che siete presenti sempre. Per me questo è un, diciamo, ormai anche un nuovo traguardo. Perché sono quasi a 3.000 iscritti. E sono a bocca aperta. Perché inizio anche ad avere quasi 3.000 iscritti. E non me l'aspettavo. Per cui grazie. Perché senza di voi io non ero ancora qua su YouTube. Per cui grazie. E grazie alle persone che anche, quelle che mi scrivono in privato. Che ci sentiamo sempre in privato. Che sono anche presenti. Non solo su YouTube ma anche su Instagram. Per cui detto questo. Seguitemi anche su Instagram. Se volete parlare con me in privato. Per qualsiasi cosa. O anche per, non so, scambiarci due chiacchiere. O anche come amici. Eccetera. Io sono sempre presente per tutti. Ovviamente aiuto sempre tutti. E parlo sempre con tutti. Normale. Come se fosse una persona normale. Anche perché ovviamente non sono famosa. Non è che sono una YouTuber enorme. Che dici wow. 100.000 iscritti. No. Sono piccola. Devo ancora crescere. Anche se da ormai quasi. Sono quasi 9 anni che sono sul canale. Diciamo che non sono così grande come le altre. Ma chi se ne frega. L'importante è stare a contatto. L'importante è parlare con voi. E divertirmi. Perché a me piace fare i video. E divertirmi insieme a voi. Sia a farli che a montarli. Che a ridere e scherzare. Tantomeno a parlare anche con voi in privato. Ok. Ho parlato fin troppo. Io direi che vi lascio tutte le clip. E vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. Credo vlog. Intanto vi metto tutte le clip. Che ho registrato. In questi giorni. In questi mesi. Che sono stata un po' assente. Di YouTube. Perché per voi. I video si caricavano sul canale. Ma quei video che avete visto. Erano già registrati. Per cui io. In teoria. Ho fatto almeno due settimane. Senza registrare i video. Adesso invece. Sto cercando di registrarli. E per fortuna. Riesco a registrarli. Anche se sto lavorando tutto il giorno. Per cui. Meno male. Almeno quello. Va bene. Io vi lascio. Lascio. Alle clip. E mi raccomando. Guardate tutto. Fino in fondo. Questo vlog. Ciao. Al prossimo vlog. Ciao. 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 caldoia nuova funziona lasciamo a parte il casino e qua è ancora da mettere a posto qua c'è ancora da mettere qualche anche qui però diciamo che c'è un casino della madonna direi che abbiamo quasi finito perché sta tagliando sta tagliando il palché lì ci sono tutti i pezzi allora ovviamente c'è casino e dobbiamo comprare le porte nuove questo è il risultato questo è quello vecchio e questo è quello nuovo che abbiamo comprato lo stiamo montando sono le 10 di sera ma noi montiamo anche lo stesso le cose giustamente e va bene vicino al citofono che andrò a cambiare anche questo dovrei trovarlo su Amazon su Amazon ne ho visto uno che costa 35 euro lungo, bianco secondo me è carino deve essere due tasti e da due tasti vediamo se si accende ah perché non va il coso io volevo vedere se funzionava bello però il touch non è male e poi si vede anche bene vabbè adesso al buio non si vede niente comunque il confronto di prima non è male carino grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie 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 a tutti